Io sono un killer, un assassino bastardo, tu lo sai. E ci sono delle conseguenze quando spezzi il cuore a un assassino bastardo. Tu ne hai avuto un esempio. La mia reazione è stata così sorprendente. Sì, lo è stata. Potevi fare una cosa del genere. Certo che potevi. Ma non avrei mai creduto che avresti potuto o voluto farla a me. Mi dispiace tanto, Kiddo. Ti sei proprio sbagliata. Io e te abbiamo una faccenda in sospeso. Parole sacrosante. Pai Mei ti ha insegnato la tecnica dell'esplosione del cuore con cinque colpi delle dita. Sì, certo. Perché non me l'hai detto? Non lo so. Perché sono... una persona cattiva. No. No. Tu non sei una persona cattiva. Tu sei fantastica. Sei la persona che preferisco. Peccato che di tanto in tanto sai essere una gran troia. come ti sembra. sei pronta. Sei pronta. tanto. Non lo so. Come ti sembra. A presto A presto